Ciao ragazzi, oggi stiamo parlando di uno dei più grandi contest che esiste sull'universo Anche gli alieni ci invidiano per questo contest, giuro Ragazzi, comunque questo contest inizia da oggi e finisce il 26 dicembre Dal 26 dicembre a mezzanotte non potete più mandarmi i beat Quindi ragazzi, iniziate da oggi, quindi la prima cosa da fare ragazzi è andare qua giù Scaricare la Midi Melody che si trova qua sotto ragazzi Dovete scaricarlo e su quella Midi Melody troverete tre Melody dentro questa Midi Melody Dove potete scegliere uno dei tre quale usare per fare i vostri beat E ragazzi, una volta finito il beat dovete mandarmelo via mail che vi lascio qua sotto nella descrizione Mandatemi e il vincitore ragazzi, il premio è che il vincitore vincerà questa roba qua La persona qua che vi vedete non è Vasco Rossi ma è Vasco Rosso Dentro la scatola ragazzi vediamo il vincitore cosa avrà Avrà queste cuffie della... non sempre usate ma non mi ricordo mai Non mi ricordo mai, non mi ricordo mai il nome Bayern Dynamic Quindi il vincitore avrà queste cuffie della Bayern E poi avrà anche dentro, dentro la scatola, un'altra scatola ecco E poi avrà anche un'altra scatola, non sto scherzando Ragazzi comunque il vincitore avrà questo premio nel contest, a parte gli scherzi Quindi ragazzi partecipate, per partecipare ragazzi è semplice Dovete scaricare, come già detto, la MIDI melody Che è free, scaricate la MIDI melody e in queste tre melodie Scegliete quale melodie vi piace e sviluppate un beat Sviluppate un beat e costruite il beat in un modo che piace a voi E mixate il beat e rimandatemi il beat in MP3 MP3 ho detto ragazzi, MP3 non in web MP3 così è più facile ad ascoltare E poi il vincitore, chiederò al vincitore di rimandarmi magari la versione web per pubblicare il beat Ma adesso per adesso voglio il beat in MP3 e basta Basta, mi so se che non basta, basta Ciao Ciao Ciao